E' stata definitivamente approvata al Senato la riforma dell'ordinamento forense. L'Associazione Nazionale Forense, per voce del segretario Ester Perifano, rimarca il proprio dissenso nei confronti di una legge nata già vecchia. Una legge che ha tantissimi punti deboli, ne dico uno così giusto perché è il più evidente, l'esame di Stato per il quale tutti noi ci battiamo da sempre, perché è un esame che non riesce a garantire, ad esempio, la qualità degli avvocati che entrano negli albi, ebbene l'esame è esattamente identico a quello di oggi. Il disciplinare, ad esempio, è un insieme di regole che al Senato era stato regolato in un modo, il procedimento disciplinare, alla Camera è stato completamente stravolto. Noi pensiamo che non vi siano adeguati pesi e contrappesi all'interno di questa legge, per cui nel momento in cui si passerà materialmente all'applicazione delle norme, avremo veramente dei grandi problemi. L'approvazione della riforma, continua Ester Perifano, cristallizza l'esistente e non fa nessun passo avanti verso la modernizzazione. A Bari gli avvocati si sono accordati perché i vertici di categoria intervengono sui punti più critici della legge anche dopo il sì del Senato. È vero che il congresso di Bari ha approvato una mozione con 700 voti a favore che chiedeva l'approvazione immediata della legge di riforma forense. Però è altrettanto vero che lo stesso congresso di Bari, con la medesima maggioranza elevata, e quindi con 700 voti a favore, ha approvato immediatamente un'altra mozione nella quale è detto che la legge si approva perché non c'è più tempo, ma immediatamente sia l'organismo unitario che il Consiglio nazionale forense sono impegnati a fare sì che queste norme vengano modificate e indica anche i punti sui quali bisogna intervenire con immediatezza. ad iniziare dalla governance nazionale che ha assoluto bisogno di essere riformata perché è una governance assolutamente indietro negli anni, risale al 33 e non ha alcuna caratteristica di democraticità.